Dal 17 ottobre le donne vittime di violenza potranno presentare domanda per accedere alle misure economiche previste dalla Regione Campania di assistenza e sostegno. E nell'ambito S013 si attiva la rete che sosterrà ed accompagnerà le donne ed i loro figli al percorso che le aiuterà a superare più in fretta un momento così difficile della loro vita. L'azienda consortile agrosolidale ha ospitato i servizi sociali di Pagani, Sarno, San Marzano, Sul Sarno e San Valentino Torio, il centro antiviolenza e di riferenti della futura casa di accoglienza per fare squadra e sinergia. Le modalità da mettere in campo e da attuare per accompagnare queste donne nella compilazione della domanda perché col nuovo bando è una domanda sportello. Quindi non c'è più come nel precedente bando una piattaforma dove il servizio sociale inseriva per conto di queste donne la richiesta in piattaforma ma in realtà adesso c'è quella modalità dello speed. Quindi ogni donna vittima di violenza che ha denunciato la violenza o si trova in una casa di accoglienza, in una casa di rifugio e presa in carico dal servizio sociale o dal CAV e decide di voler presentare la domanda deve innanzitutto avere una sua identità e fare lo speed dopodiché il servizio sociale le può affiancare nella compilazione della domanda che è un po' più impegnativa quest'anno e quindi è importante che il servizio sia presente proprio come lo è sempre come servizio di accoglienza, di ascolto e di orientamento e così lo sarà anche per le donne prese in carico dai CAV. Insomma saranno affiancate in tutto dall'inizio alla fine. Cercare un pochettino di supportarle a fare questa scelta che non tutte riescono a fare perché poi non è una scelta semplice perché si può guardare anche a quello che la gente potrebbe dire, i figli, le famiglie, quindi è un aiuto e un supporto anche sulla presa di posizione che devono liberarsi e devono urlare alla loro vita, alla loro libertà e alla loro autonomia.